Il traforo torni alla normalità. Questo è l'appello degli enti nell'intricata matassa del piano di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. La rottura della canala del collettore insieme all'inalzamento del livello di torbidità dell'acqua venerdì scorso ha determinato la sospensione del carotaggio, prima fase del complesso intervento. Ma non sono destinate a esaurirsi le polemiche sul commissario straordinario nominato dal governo per lo scopo Pierluigi Caputi, criticato da più parti, tra cui i vertici della Ruzzoretti, società del ciclo idrico integrato del Terramano e dalla stessa strada dei parchi, concessionaria dell'A24 e A25, dove insiste il tratto nel traforo nel rimpalo di responsabilità che si è innescato. Sono in molti istituzioni identi a chiedere la riapertura alla normale circolazione del tunnel. Oggi ha senso unico con il semaforo che costringe a lunghe attese e disagi, visto che i cantieri per i sondaggi geologi affidati alla Italfer non erano stati ancora aperti, con le due corsie sgombri quindi percorribili. Ruzzoretti assicura che se c'è una lesione ci sarà un intervento. In programma un summit a Roma, la presenza dei vertici della concessionaria strada dei parchi e dello stesso Caputi, poi martedì una riunione ancora nella capitale con il Sian, la società pubblica che si occupa della potabilità dell'acqua. Ma da nessuna delle due ci saranno novità sullo sblocco dei lavori necessari per eliminare il pericolo di infiltrazioni nell'acqua del Gran Sasso causato dalla circolazione delle auto e dalle attività dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.